Buongiorno dall'unità ambientale della Polizia Locale. Sopralluogo al Circo Togni, da poco arrivato in città, un'equip composta da Polizia Ambientale, Ente Nazionale per la Protezione Animali, ASL, Vigili del Fuoco e il Garante per i Diritti degli Animali, ha effettuato i controlli per verificare, tra l'altro, le condizioni delle bestie coinvolte nell'attività circense. Nessuna irregolarità è stata registrata. A Scampia, gli agenti della Polizia Ambientale e del reparto anti-abusivismo hanno sequestrato una pizzeria abusiva. Il titolare gestiva l'attività senza alcuna autorizzazione, utilizzando un forno non a norma, legna non controllata e producendo fumi inquinanti. Grazie alla segnalazione di un cittadino sulla pagina Facebook della Polizia Ambientale, è stata individuata una pasticceria di fuorigrotta che sversava i propri rifiuti sulle aiole, rifiuti peraltro differenziabili. Al titolare è stata elevata una multa di 500 euro, con l'obbligo di rimuovere e smaltire correttamente i materiali abbandonati. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, se fare rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di Assia 816 1010, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli i prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.